Cari amici, buona giornata. Oggi che è mercoledì 9 dicembre, siamo nella seconda settimana di Avvento e i temi dei Vangeli che leggiamo in questa settimana girano attorno al tema centrale del Regno dei Cieli, il Regno di Dio. Questa proposta che Gesù fa ai Suoi discepoli, appartenere al Regno, far parte del Regno dei Cieli. E Maria ci accompagna in questa settimana, lei che ieri abbiamo celebrato come Immacolata, che domani ricorderemo come la Beata Vergine di Loreto e che sabato ricorderemo come Nostra Signora di Guadalupe. Iniziamo l'incontro con l'invocazione allo Spirito. O Spirito Santo, dono del Padre e del Figlio, illumina il mio cammino. Donami di accogliere l'invito di Gesù ad entrare nel Suo Regno. Fammi riscoprire la mia vocazione di Figlio di Dio e di Fratello di ogni uomo. Che il mio cammino quotidiano sia sostenuto e incoraggiato dall'esempio e dalla preghiera di Maria, la prima dei discepoli, la mite e umile di cuore, a somiglianza del Suo Figlio e Signore. Amen. Un Vangelo molto breve che abbiamo ascoltato anche altre volte, ma che va al cuore del significato del far parte del Regno dei Cieli. Com'è? Come si caratterizza la persona che ha accolto l'invito a far parte, ad entrare nel Regno dei Cieli? Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco infatti è dolce e il mio peso leggero. Ecco due versetti stupendi che ci offre l'Evangelista Matteo. È importante capire il contesto nel quale Gesù pronuncia queste parole. Poco prima Gesù aveva detto che il Padre rivela il mistero del Regno dei Cieli ai piccoli e ai semplici. Sono costoro che aderiscono a Gesù. E Gesù sta ponendosi in contrapposizione con gli iscrivi e i farisei, i quali impongono una religione fatta di norme e di leggi, ma incapace di rivelare il vero volto di Dio che è Padre. E vede queste persone stanche e oppresse e dice loro «Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi». Stanchi e oppressi sotto il gioco di una religione, diremmo così, impossibile, che opprime senza liberare, senza sciogliere e senza aiutare la persona a alzare lo sguardo verso Dio conosciuto come Creatore e Padre. Gesù invece chiama a sé e offre un'alternativa, un ristoro, una liberazione da una religione oppressiva. Anche lui propone una religione, cioè un gioco, di sottoporsi a un indirizzo di vita. Religione vuol dire legarsi a, gioco. E riassume questo suo gioco in questo modo. Non dà delle norme, si presenta come esempio. «Seguite me». Anch'io sono soggiogato a dei valori, a un comportamento, a una relazione con il Padre. Il mio gioco è la mitezza e l'umiltà. Una relazione ritrovata con Dio e con i fratelli. «Umile con Dio, mite con i fratelli». Ecco la religione che io vi propongo. Riscoprire il Padre, sentirvi figli nell'umiltà e nella piccolezza. Aprire il cuore a tutti come fratelli di tutti. Le due parole che dicono l'appartenenza al Regno dei Cieli, in qualche modo alla nuova religione che Gesù propone, è un amore umile e mite. Un amore che si fa piccolo e umile davanti a Dio, mite e pacifico nei confronti del prossimo, degli altri. E Gesù aggiunge però che questo gioco di un amore umile e mite dà leggerezza alla vita. Il mio gioco è dolce e il mio peso leggero. Si intravede che la religione di Gesù è in grado di portare alla gioia. Beh, mi sembra che un messaggio per me e per noi è abbastanza evidente. Si tratta di rivedere il proprio rapporto con Dio, la propria religione. Rivedere se c'è spazio nella nostra relazione con Dio all'umiltà e a un amore che poi si riversa in tenerezza, in mitezza, in dolcezza, verso il prossimo. Il cristiano, io, non devo aver paura di dire, di pronunciare e soprattutto di vivere queste due parole fuori moda «umiltà» e «mitezza». L'umiltà e l'amitezza fanno grandi tutti i discepoli del Regno. Così divenne grande e grande Maria, esempio di discepola per noi. Signore Gesù, Tu prometti ai Tuoi amici una religione, per così dire, nuova, nuova nella Sua ispirazione, nel Suo atteggiamento, nella Sua proposta di fondo, nuova e che si raccoglie attorno ad una parola, un amore umile e mite. Donami questo amore, Signore, che io sia umile e piccolo davanti al Padre, mite e costruttore di pace nei confronti di ogni fratello. Amen. Anche oggi terminiamo l'incontro con la benedizione che ormai conosciamo, forse già a memoria. Diciamo così, il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, accanto a te per accompagnarti, dietro di te per custodirti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.